Siamo in compagnia di Vanessa Gravina dopo lo spettacolo Il mare dove nascono i amici a Casignana. Soddisfatta di questo pubblico e di questa serata? Io devo dire che ho sempre trovato una bellissima accoglienza qui. Abbiamo avuto sempre tanti spettatori molto attenti, molto sensibili a tutto. Poi lo scenario ovviamente raccontava da sé, c'era anche una runa meravigliola questa sera. Quindi spero che ritorneremo presto e spero veramente di avere sempre questo pubblico molto caldo, molto attento perché per noi è importante avere un'accoglienza e una sensibilità che non si trova sempre ovunque. Grazie.